Questo è l'anno del biologico fondamentalmente, perché è l'anno in cui si celebrano i 5 anni di attività di questa amministrazione che ha puntato molto sul biologico nei piani di sviluppo rurale e che sul tema del vino ha inciso in modo sostanziale. La regione Lombardia si colloca in questo punto ai vertici in termini di produzione biologica, lo fa declinandola nelle aree che tradizionalmente avevano una vocazione più intensiva, quindi questa è anche l'altra grande anomalia, ma in ogni caso il biologico è più che raddoppiato in termini di estensioni di aree in solo 5 anni. Sicuramente frutto di una tendenza di mercato abbastanza consolidata da un lato, ma altrettanto frutto di scelte politiche ben precise in questo senso.